Una buona serata a tutti da Marco. L'instabilità pomeridiana in atto continuerà a manifestarsi anche nella giornata di domani, sebbene la circolazione depressionaria tenderà a spostarsi verso la Russia. L'Italia continuerà ad essere interessata ancora da correnti fresche orientali, ma in un regime climatico più stabile che garantirà tempo bello per tutto il giorno, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Giornata irregolarmente nuvolosa, quella di domani in Abruzzo, con altre possibilità di precipitazioni soprattutto sui versanti orientali della regione, con tempo che dovrebbe migliorare entro la sera-notte. Per quanto riguarda la ventilazione sarà debole di tramontana, in particolar modo sulle zone orientali, ed il mare sarà poco mosso. Infine un'occhiata alle temperature, le minime di questa notte comprese tra 12 e 20 gradi e le massime di domani ancora stazionari o addirittura in leggera diminuzione comprese tra 21 e 25 gradi. Per la meteo è tutto, buon proseguimento di serata.